Gli scenari mondiali nei quali si muovono le imprese, le prospettive 2018 per il manifatturiero anche alla luce della trasformazione tecnologica in corso, l'Europa con le sue regole ma anche con misure che proteggono dalla concorrenza sleale e sono dunque a favore dello sviluppo del sistema produttivo, l'innovazione digitale in primo luogo, elemento immancabile per ogni strategia di crescita in contesti 4.0. Confindustria Lecco e Sondrio con l'edizione 2017 dei convegni internazionali si concentra sul tema della competitività delle imprese che guardano oltre confine. Presidente, perché? Perché la nostra competitività è la competitività del nostro paese, perché il paese cresce se l'industria cresce e noi abbiamo un'industria competitiva, la competitività del paese passa dalla competitività delle nostre imprese perché sviluppando le nostre imprese sviluppiamo il paese, sviluppiamo le persone, diamo miglioramento della vita e le nostre imprese dimostrano in questi anni la capacità di essere competitivi. Chiaro perché essere competitivi in un mondo che cambia velocità immaginabile ci vuole un'Europa vera, un'Europa con delle leggi forti, con delle leggi univiche e il fatto che noi ci crediamo nella dimostrazione che la sede si contrarà nei confindustri a Bruxelles da dove nascono e vengono le vere leggi che permetteranno alle nostre aziende di continuare ad essere protagonisti in Europa e nel mondo. Ci stiamo muovendo in un contesto che ormai da oltre un anno è decisamente incoraggiante in termini di condizioni macroeconomiche, alla gamba di sostegno legata alle esportazioni si è finalmente associato anche un contributo significativo dal mercato interno, quindi segnali di scenario interessanti che tuttavia necessitano di azioni molto proattive da parte delle aziende per continuare ad essere colti. Anche dal punto di vista della capacità di generare reddito l'ambiente sta migliorando ma permangono ancora dei gap da colmare. Uno di questi ha a che fare con il livello complessivo di efficienza e in questo contesto l'occasione di 4.0 è effettivamente una possibilità che le aziende possono cogliere.